Buonasera, se state guardando questo video è perché state sul sito davidemaggio.it e se io sto parlando è perché io sono Francesco De Carlo, uno dei comedian di Stand Up Comedy un programma rivoluzionario che trovate solo su Comedy Central, canale 124 di Sky ricordatevi, la felicità è nelle piccole cose, come i capezzoli Solo dopo tanti anni, una donna, durante una fellazio, ha avuto un sigliozzo una singazio Stand Up Comedy, la nuova stagione, da lunedì 2 febbraio alle 23 su Comedy Central